Salve amici del Centro Meteo Italiano, importanti manovre invernali tra weekend e prossima settimana. Vediamo allora la tendenza con gli ultimi aggiornamenti. Giornata di sabato che vedrà aria molto fredda di estrazione artica raggiungere anche l'Italia con un deciso calo delle temperature. Approfondimento di un minimo al suolo che porterà una veloce fase perturbata con maltempo soprattutto al centro-sud e fiocchi fino a quote collinari. Nella prima parte della prossima settimana un vortice colmo di aria molto fredda stazionerà sull'Europa orientale portando clima invernale anche sulla nostra penisola. Anticiclone visto ben saldo in Atlantico anche con l'arrivo di dicembre e possibile nuova ondata di maltempo per il Mediterraneo con neve abbondante in montagna. Trattandosi però di tendenze seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.